Quando la tua migliore amica ha un ragazzo reale e tu ne hai uno virtuale, cerca di non farti male! Goldie e Dorothy sono migliori amiche, ma tutto cambia quando Dorothy ha un fidanzato! Dorothy! Ehi! Riesci a sentirmi? Bene, me ne vado! Dove posso trovare un fidanzato? Ordina il nostro fantastico tablet per creare l'uomo dei tuoi sogni! Chiama ora! Voglio quel tablet! Potete consegnarlo subito! Grande! Finalmente il mio tablet! Grazie! È ora di creare l'uomo dei miei sogni! Vediamo! Scelgo il suo aspetto! No! No! Forse? Sicuramente no! Scelgo te! Il mio perfetto ragazzo virtuale! Ciao Tommy4115! Ciao! Vi presento il mio ragazzo Tommy! Ciao Tommy! Bella testa! Io e Tommy siamo fatti l'uno per l'altra! Ecco il vostro ordine! Tommy, hai fame? Il mio ragazzo ha bisogno di un menù diverso! Ecco a te! Basta USB! Grazie! Questo è il mio piatto preferito! Il conto, per favore! Ecco a te! Noi paghiamo la metà! Pago io! Aspetta! Mi dispiace, ma non accettiamo soldi virtuali! Ups! Allora, prendi il mio braccialetto! Scusa Goldie! E' stato imbarazzante! Ti appendo le mensole, tesoro! Ai! Martello! E' facile! E' facile! Ecco! Solo un paio di colpi! Ai! Le mie dita! Teo! Come al solito! Spostati! Lo faccio io! Fatto! Attimo lavoro, Goldie! Grande allenamento! Ho bisogno di sedermi! Ho bisogno di sedermi! Oh no! Oh no! Ai! Huh? Goldie! La mia faccia! Ups! Scusa, tesoro! Provate la fortuna! Indovinate quale scatola contiene un premio e vincete! 5 dollari per partecipare! Vai, Teo! Questa! No! E' vuota! Tocca a me! Lasciami chiedere al mio ragazzo! Questa scatola! Sì! Ha un iPhone! Ho vinto! Come faceva a saperlo? Ciao ragazzi! Entrate! Siamo appena tornati da un viaggio fantastico! Vi abbiamo preso un souvenir! Vuoi vedere le nostre foto? Siamo andati ovunque! Guarda quanto è stato bello! Wow! Sono così invidiosa! Ehi, Goldie! Guarda qui! Anch'io ho delle foto! Wow! Guardate le foto mie di Tommy! Anche noi abbiamo viaggiato molto! Scusa, Goldie! Dobbiamo andare! Yes! Volete vedere un film? Ottima idea! Ehi, Teo! La TV non funziona! L'ha giusto subito! Ups! Ha solo bisogno di essere collegata! Non riesco! Aspetteremo! Ehi, Goldie! Posso farti da proiettore! Buon film! Non so perché, ma non funziona! Non hai collegato il cavo alla TV! Genio! Buonanotte, amore mio! Non riesco a dormire! Cos'è quella luce brillante? Wow! La luna è enorme! Wow! Devo fare una foto! Cosa? Ma è diventata minuscola! Ma perché? Ehi, Goldie! Girami! Ora hai una luna personale sul soffitto! Wow! Tommy, sei incredibile! Oh, Tommy! Sei esilarante! Tesoro, questi sono per te! Oh, grazie! Hanno un profumo così buono! Wow! Tommy, ti regala dei fiori? Sss! Goldie! Fiori per te! Wow! Sono fantastici! Guarda che bucchè enorme mi ha dato il mio ragazzo! I tuoi fiori hanno un buon profumo, Goldie? Mi dispiace! Aspetta qui, Tommy! Lavo i piatti! Così possiamo chiacchierare! Un ultimo cucchiaio! Oh, Tommy! No! Ti sei bagnato! Ti asciugo subito! Mi dispiace, tesoro! Guarda che dolce! Theo mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi ama! Tommy mi manda un messaggio così ogni secondo! Ci sono abituata! Oh, fa un po' freddo! Hai freddo, piccola? Prendi la mia giacca! Oh, che fortuna! Siediti, tesoro! Voglio comprare tutto! Questo e questo! E questo! Torno subito! Allora? Theo, ti sembra bello? Hey! Ti piace? Theo, dove sei andato? Ho bisogno di una nuova maglia! Guarda! So cosa ti aiuterà! Shopping online! Scegli quello che ti piace! Ok! Prendo questo... Prendo questo... E questo! Aggiunto al carrello! Oh! Consegna! Wow! Grazie, tesoro! Ora vado a dormire! Buonanotte, Tommy! Ti amo anch'io! Ok! Abbracci e baci! Dormiamo! Smettila! Lasciami dormire! Ti amo! No! Io ti amo di più! Ah! Mi stanno rapinando! Aiuto! Non ti darò il mio tablet! Ehi tu! Lasciala in pace! Stai bene? Sì! Grazie! Mi hai salvata! Sono Goldie! Piacere di conoscerti! Oh! Sto male! Tommy! Aiutami! Mi dispiace tanto! Lascia che ti prepari un toast e accende il riscaldamento! Che schifo! Il posto si è bruciato! E il microonde! Tommy! Stai cercando di uccidermi! Entra! Ciao Goldie! Hai bisogno di aiuto? Mi prenderò cura di te! Oh! Capisco! No! Aspetta! Guarda! Anch'io ho una ragazza virtuale! Ehi! Piacere di conoscerti! Sono Tommy! Goldie! Vuoi sposarmi? Sì! Certo! Vuoi sposarmi? Mio dolce ragazzo di pixel? Naturalmente! Aspetta un secondo! Niente più relazioni virtuali! Vi è piaciuta la nostra storia d'amore virtuale? Scrivi qui sotto se vorresti un ragazzo o una ragazza virtuale! E ragazzi, iscrivetevi al canale! Mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella! Non perdete nessun nuovo video esilarante di... Show você! такая rai-ra23e! Va aippa! Ho hooo! Dat coisa rai-ra24e!